Il rischio fondamentale è che per ora i 24 CFU sono stati chiusi in tutte le università, la decretazione dei 60 non è ancora uscita, quindi in questo momento non c'è nessun canale di formazione per gli studenti che si laurano e vogliono intraprendere questa, sono vocati verso l'insegnamento, allora se teniamo conto che qui a Torbergata nei 24 CFU abbiamo avuto circa 1000 studenti magistrali e di dottorato che gratuitamente hanno avuto accesso ai 24 CFU per i nostri studenti in questo momento, per i laureati, i nostri laureati in questo momento è veramente un danno, nel senso che non hanno nessun canale di formazione, però insomma c'è una lunga tradizione ormai, una cosa buona dei TFA e dei 24 CFU è che è cresciuta una comunità di docenti preparati a livello universitario per assolvere questi compiti, quindi le criticità ci sono ma credo che saremo in grado di assolvere nuovi compiti.